l'eredità di topone di gianni rodari il vecchio topone sentendosi vicino a morire chiamò attorno al letto i suoi figlioli topo grigio codaritta e mezzo baffo ragazzi sospirò topone aggiustandosi sulla pancia la borsa dell'acqua calda sto per morire e voglio dividere tra voi i miei possedimenti a te topo grigio lascerò quella bella forma di cacio parmigiano che sta nel negozio del signor brambilla a te codaritta la scatola di biscotti che la signora teresa ha dimenticato in anticamera e a te mezzo baffo non ho proprio nulla da lasciare hai le tue unghiette buoni dentini potrai cavartela da solo detto questo sospirò più a lungo e si voltò con la faccia contro il muro per non far vedere che piangeva quando fu morto i tre figlioli lo seppellirono in cantina dentro la sabbia dove si mettono a invecchiare le bottiglie l'odore del vino pensarono gli terrà compagnia concluso il funerale del padre si salutarono e ciascuno se ne andò per i fatti suoi topo grigio si seppellì subito con la sua famiglia nella forma di cacio parmigiano vi scavarono gallerie e saloni scale e stanze dal letto ma si sa che i topi sono molto ghiotti di cacio ogni giorno un pezzo di casa spariva ora era topo grigio che si mangiava il caminetto ora era sua moglie che faceva colazione con i mobili della stanza dal letto dopo una settimana il parmigiano era tutto finito il gatto aspettava proprio quel momento così finì miseramente la famiglia di topo grigio codaritta entrò nella sua scatola di biscotti e ingrassò tanto che non fu più capace di uscirne il gatto lo pescò fuori con una zampata e buon appetito mezzo baffo non aveva ricchezze da difendere aveva soltanto i suoi dentini per cercarsi da mangiare e lavorando e faticando divenne tanto bravo e tanto furbo che il gatto lo sta cercando ancora adesso ma non riesce a trovarlo voi non diteglielo per carità se sapete dove sta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti